per andare agli ordini dello starter tutto è pronto sono partiti Simonetto e Lusorio che si mettono dietro Rosier che va davanti poco più del canter, poca andatura ma Rosier è davanti su Fjerskrai che precede Dragomania Simonetto e Lusorio prima parte di gara piuttosto tranquilla e di fatto tutti accettano il ritmo che impone Antonio Ferramosca il capofila dei GR l'anno scorso alla corsa secondo è Fjerskrai terzo allargo Lusorio quarto in corda Simonetto in coda Dragomania il frontale ci mostra questa immagine ma la sostanza è questa 1, 2, 6, 3, 4 le posizioni Rosier affronta il giro di corsa finale in vantaggio su Fjerskrai terzo è Simonetto quarto è Dragomania con all'esterno Lusorio la natura è soltanto un filino più svelta in questa parte del tracciato con Rosier davanti sempre su Fjerskrai e Simonetto all'esterno Lusorio in coda in corda Dragomania si alza un po' il terreno pur essendo meno pesante i giorni scorsi rimane ugualmente ben soffice Lusorio dall'esterno muove e allora va su Simonetto e Fjerskrai e punta su Rosier in coda a contatto c'è sempre Dragomania Lusorio prova a sfondare terza corsia andando su Rosier Fjerskrai e Simonetto sono lì con Dragomania il cui tetto è molto compatto sulla curva Rosier Lusorio Fjerskrai Simonetto con all'esterno Dragomania quando si sta per entrare in dirittura lo schema è questo 5 cavalli in due lunghezze la volatona Fjerskrai murato all'interno dietro Rosier all'esterno c'è Lusorio in mezzo alla pista Dragomania poi Simonetto Rosier in vantaggio di fatto non dà spazio a Fjerskrai che ora prova l'azzardo cioè andare di dentro ma nel frattempo Lusorio sta scattando Lusorio è in vantaggio su Rosier poi Dragomania poi Fjerskrai con Lusorio che è in vantaggio su Rosier Lusorio è in vantaggio su Rosier e poi Dragomania il giorno giusto di Lusorio che batte Rosier terzo Dragomania 3-1-4 è l'ordine d'arrivo dai e dai per Elisabetta Sadelli Guglielmo Ferrero sul fido Lusorio batte Rosier e per la terza moletta Dragomania un filo più brillante delle altre volte ma ancora non quella di Little Bad Girl è comunque terza a precedere Fjerskrai che non è progredito e Simonetto che non è progredito